E benvenuti in questo nuovo episodio di God of Wars Olympus Bene ragazzi, continuiamo E da un po' che non l'ho fatto Ma va, non lo sapevo Ah, non possono prendere queste statue E vabbè Ah, ok Ragazzi, secondo voi Qual è il God of Wars che Ha la storia che dura di meno? Secondo me è questo Vede, quello che dura di più Secondo me È God of Wars Adception E no Vai giù Anche te Va bene Vai giù Un buon viaggio Oh, va, è camminato in cima E facciamo il Dusa Beh, era anche ovvio Io so che ero nelle statue Da, da, e sta Fuori Ragazzi Ragazzi, voglio darvi un consiglio per chi gioca a God of Wars Di provare Di provare Quando Quando il God of Wars è veduta Ecco Quando mi fa questo sguardo Poi spottatevi sull'altra Veduta che c'è Perché potrebbe funzionare Purtroppo qua Non funziona Però Il God of Wars 3 Sì Sugli altri Non lo so Perché non l'ho mai provato Il cavolo di Dusa Lo ho messo malissimo Ah ah Ti è andato male Muori anche te Beh, ecco Un po' di vita Se voleva Ecco Non rompa le balle Mentre ci ha prendito la vita E non ce l'ho fatta Che cavolo Ah non bastava solo uno Eh, solo due Che cavolo Aiuto Oh beh Un sacco di stranze Non ce l'ha fatta Ma ce l'ha fatto Ma ce l'ha uno dei due Ok, un po' di vita L'ho riparata Oh Aiuto Aiuto Dai, 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 dai Ce l'ha fatta Oh no Sono un grande Oh beh Comunque questo è il primo Se non sbaglio Go to go to wars Dove per prima volta il boss E' una donna O forse O forse è il due Bisogna che a fine del due Bisogna affrontare le tre sorelle Ah no Ah no, no Ah no, no Oh no E questo è questo Perché Nel due Si si affrontano Però Non ha la fine Perché alla fine Il boss Il boss da battere È Zeus Però non muore È una sorta di Anteprima Della fine del terzo Si Quindi direi che Il boss Il primo boss femminile È In questo Si E uno E due E tre Quattro Beh, vorrei Cinque Ma vabbè Oh ma voi Non lo imparate mai Eh Beh, che ti ho visto Oh E Tac E adesso Al galoppo Musa Hai posendo un occhio È già stato più Ora Vabbè Stiamo di passare O non c'è qualcun altro Vai Oh Mi pareva Ah Cavolo Non ce l'ho fatta Ecco Ti pro Oh Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Allora Vediamo se posso potenziarmi qualcosa Ah Bene Il potenzio La rama del caos Beh Almeno così Per la prossima volta La potenzio ancora Ah Ragazzi Per tutte le lave Del caos Che No Per tutte le lave Di Good War Che ci sono Qual è la vostra preferita Eh No Ma hai detto Pizzone Oh Pissà Dai Vite Vite Pizzoni Che vi ammazzo Eccolo qua Ecco fatto Pizzoni Ok Una frutta reale Quasi Fa passare Eh Non credo proprio Che si riesco La Che non Anche Che privacy Not Che Le Che R Il Per Il che Se Vitt Ma voi avete mai giocato al gioco, come era, uno dei titani, pure sono dei titani mi sembra che era, che hanno fatto anche il football. E' una sconso saltitani, ecco come era, so che c'è il gioco ma io non l'ho mai provato, voi, ma posso, no, vabbè io farò saltare, andiamo, via, ma non posso saltare. Qua non posso distruggirlo. Mi sono un po' broccato al momento, eh. E' il cavolo. Ah, ecco. E' l'effettività dove le pro più prende, però, eh. Ma dai, ma, ecco, non è possibile che non si arrivi. Ah, perfetto. Ah, ragazzi, vedete quanto vino sta accendendo. Ah, qua c'è la compagnia. 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 E' che male? E' buoni! Ma che seccatura ha facciuto questi qua! Ok, devo andare! Appunto, dove devo andare? Devo scalarlo, non so. Forse qui da qualche parte hai i fatti! Dai, salutiti! Ecco, dovevo usare il pulsante! Cade! E' caduta! Io non pavo i dati eh! Bene! E adesso posso... Fare un cavolo! Oh si, vediamo! Ah, eccoci l'ho fatta! Bell' albero! Proprio bellissimo albero di teschi! Eccolo da dove... Vengono i teschi! Beh, lo cancello anche questo eh! A tutti i canzelli che ho visto, questo è quello più imponente! E anche quello... Più sorvegliato! Oh che male! Oh che male questi i tizioni! Ecco, mi schiazzano sotto alla suola! Quindi sicuramente questi i tizioni sono... I dimizi più fastidiosi e irritanti! Vedete? E' una fatta! Mancato! Riprova! Riprova! Ah! Un attimo... Potenzia... Devo fare potenziamento! Bene! Lami del Chaos! livello 3 ah posso anche arrivare a livello 4 si a quanto pare livello 4 già con livello 5 si posso? no buon momento oh è così che la tors, basta dire con la faccia a terra vuol dire, devi vedere com'è il pavimento oh, volete morire, sì o no? sapete, come mi stai stancando parecchio oh, cominciamo da questo uno e due ma che bei occhi che hai, porta ma forse ritorno dopo anzi no, credo di ritornare più tardi vedi che si pochi rossi bello, altro occhio di vergone altro potenziamento scluso più avanti e qua ci sono quelle piccole e qua ci sono quelle piccoli voi ci cavolo di cavalli dello giudico ecco, vi faccio la barata con un contorno di patatine guarda mi stanno stressato qui veramente va tanto oh, cavolo, cavolo, cavolo ho un piccolo di vita dai, dai fuori uno fuori vita, grazie bravo, dai incredibilmente incredibilmente bella solo cavata ma sono un grande credo di morire qua grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Qua si perde lo stesso la prima volta e per tutti così. Hai scelto il tuo destino, fantasma di Sparta. Grazie a tutti.